T. Rowe Price vs. Benjamin Graham. Chi vince la sfida del trend following vs. il value investing? Lo scopriamo subito. Ben trovati, lo chiamamolo Saver. Io sono Giacomo e sono qua ogni martedì a darvi delle pillole di educazione finanziaria. A proposito, vi ricordo che a fine mese noi toglieremo i corsi di formazione dal catalogo. Quindi sostanzialmente li chiuderemo per i nuovi iscritti. Per cui, se sei interessato a imparare a investire da solo in modo serio e completo, visita il link che trovi in descrizione per scoprire l'offerta dedicata all'ultima ondata di clienti, perché dopo non ce ne saranno altri, in quanto, come ho detto, i corsi verranno tolti. T. Rowe Price e Benjamin Graham sono i due capostipiti delle due grandi filosofie di investimento. Da un lato abbiamo il trend following, ovvero una filosofia del compra alto perché varrà ancora di più. Dall'altro lato abbiamo la filosofia del value investing, ovvero compra quello che costa poco, che è sottovalutato perché poi tenderà a recuperare. Quale delle due filosofie è la migliore? Beh, secondo noi entrambe, tant'è che nei nostri corsi di formazione le proponiamo tutte e due. Perché vedete, la differenza non è tanto nella strada migliore che porta in un determinato posto, ma nell'atteggiamento psicologico che l'investitore ha. Io mi trovo sulla rocca di San Giorgio a Chieri, dove ci sono due strade, una più ripida e l'altra un po' meno diciamo in pendenza che quella in cui mi trovo adesso. Entrambe portano sulla sommità, ma sono due percorsi diversi. Se tu sei una persona che quando il mercato scende ha paura, è inutile che adotti l'approccio value o l'approccio contrarian, cioè è inutile che vai a comprare quello che sta perdendo valore, perché verosimilmente andrai presto in ansia. Al tempo stesso, se tu sei una persona che sente la pulsione a vendere quando il mercato sale, non seguire la filosofia trend following, perché trend following ti dice compra quando i massimi sono stati superati, perché trend following è una sorta di acceleratore, c'è una spinta forte in atto, io compro perché? Perché mi aspetto che quello che oggi ha superato i massimi di ieri, domani varrà ancora di più e così via. Per cui alcune persone su questo canale hanno giustamente fatto domande, ma dice una cosa, poi ne dice un'altra, quale è meglio, dipende da voi. Io personalmente, e questo vale anche sui nostri portafogli, applichiamo un approccio misto, cioè andiamo a cercare quei settori, quelle aree geografiche, quegli strumenti finanziari che sono sottovalutati, però aspettiamo a comprarli e aspettiamo che ci sia in qualche modo un segno di risveglio del trend, perché il problema è che se voi andate a comprare un qualcosa che è rimasto indietro, non avete garanzie del fatto che domani non valga ancora meno di oggi. La cosa migliore è usare un approccio misto, ma questo richiede delle competenze che magari le persone non hanno. Voi fate un'analisi introspettiva dentro di voi, cercate di capire se siete più persone da trend following, che quindi comprano quando le cose vanno bene e seguono le folle, o se invece siete più a vostro agio se vendete quando il mercato è alto e comprate quando le cose vanno male. Questo è tutto, noi ci vediamo martedì prossimo.